La mela è da sempre simbolo della bellezza e della perfezione, culla dell'ispirazione che nasce dalla sua forma rotondeggiante ma allo stesso tempo metafora della gioia perché è considerata dalla tradizione biblica l'immagine del paradiso. Partendo anche da queste storiche suggestioni è nato il libro A Mela Mela, scritto da Niccolò Scuderi, ordinario di chirurgia plastica all'Università Sapienza di Roma e presentato per la prima volta nella capitale. Professor Scuderi, come nasce il libro? L'idea è quella di fare un po' di chiarezza sulla chirurgia plastica, la medicina estetica, che sono richieste in maniera sempre più importante e su cui spesso si fa confusione, ci si aspetta troppo, si pensa che tutto sia possibile, alle volte si prendono anche delle delusioni. Insomma è un tema di attualità e poi è anche un tema su cui tutti si sentono un po' esperti, nessuno pensa di giudicare un intervento di ernia di appendicite perché rimane dentro, mentre invece l'intervento di estetica è sotto gli occhi di tutti. Cosa le piacerebbe che rimanesse nel lettore una volta finito? Ma nel lettore forse i dialoghi a cui tengo di più sono quelli immaginari, ho fatto degli incontri con Ippocrate, con l'imperatrice Sissi, Creopatra, Sirano e dove c'è un po' ci sono alcune mie idee che ho tirato fuori in questo modo, diciamo sono un po' i cardini della pratica della chirurgia plastica, della deontologia. Grazie a tutti!